Una breve apparizione in Piazza Cavour durante il tour elettorale che prevedeva dei passaggi anche a Pescara e l'Aquila. Questa mattina il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, è stato a Martinsicuro per un breve incontro con la cittadinanza. Incontro programmato da IDEM a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra, Simona Lattanzi. In realtà quello che doveva essere un momento di confronto e di analisi sull'appuntamento elettorale del prossimo 12 giugno è stato mutato da un fatto luttuoso. Nelle ultime ore infatti è scomparso improvvisamente il papà della Lattanzi e la mattinata è stata segnata da questo lutto improvviso. Accompagnato dal segretario regionale Michele Fina, Letta ha voluto solo esprimere il suo cordoglio per il lutto che ha colpito la Lattanzi, usando parole di vicinanza per la candidata a sindaco. E non ha rilasciato dichiarazioni e non ha nemmeno fatto un intervento pubblico come era inizialmente previsto. Si è soltanto intrattenuto con alcuni cittadini e con il segretario locale Mauro Paci, facendo una tappa nella sede del circolo, sempre localizzata in Piazza Cavour. Ad attendere Letta anche il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, per un saluto istituzionale, anche se sul fronte elettorale le posizioni sono diametralmente opposte. All'appuntamento elettorale il 12 giugno a Martinsicuro, comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, si sfideranno tre candidati a sindaco, l'uscente Massimo Vagnoni, Simona Lattanzi ed Emma Zarroli.